segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ci sono due cose che ancora le voglio chiedere poi riapriamo riapriamo la discussione in studio la prima filippo turetta che ora in germania in carcere le procedure abbiamo capito dall'avvocato per le strade per portarlo in italia saranno non così rapide veloci si parla addirittura di 15 giorni e questo lo vedremo sul piano giudiziario da quello che si capisce secondo lei che cosa è scattato nella testa di filippo turetta l'ultimo appuntamento la voglia di provare a riconquistarla il panino dal mcdonald l'ultima cosa che hanno fatto insieme poi la famosa litigata che ha portato alla sua alla sua morte che cosa può essere scattato e che cosa magari ha spinto invece anche giulia nonostante magari tutte queste pressioni questi messaggi ricevuti ad andare a questo famoso ultimo appuntamento ma io non vorrei che continuassimo a guardare la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché il vaso era già pieno e se non ce ne siamo accorti è lì il problema cosa possa avere scatenato l'ultima ira e la coltellata può essere una frase può essere ma io non credo a nulla di tutto questo io credo che questo sia un tarlo che questo ragazzo avesse della testa che che ci fosse una un modo per invidiare detestare una sorta di 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 impotenza dell'anima che che ha portato poi a scattare ma noi guardiamo sempre l'ultima cosa e quando parliamo di suicidi si è suicidato perché ha preso quattro in matematica ma come si fa a dire una una semplificazione del genere una violenza è un progetto ed è una nostra fortuna perché è importante cioè lei dice una violenza è un progetto e non è una cosa che nasce nell'ultimo miglio ma non si senta lupi in una notte ma 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 questo neanche neanche nei peggiori nei peggiori fumetti ma per carità il raptus tutte queste cose qui sono cose inventate da qualcuno che non ha mestiere e che vuole semplificare sa perché per passare il più presto possibile a chiudere quel capitolo e passeremo ad altro e anche questa ragazza sarà sarà scordata per per quello che metaforicamente rappresenta eppure a leggere quello che dicono diciamo